Capitolo terzo Appena tornai in me, pervegni ad uscire da un incubo spaventoso e di veder dinanzi agli occhi una luce rossastra a strisce nere e fitte. Sentii alcune voci sommesse, coperte dal rumore dell'acqua e del vento. L'agitazione, l'incertezza e un senso di terrore avevano gettata una grande confusione nella mia mente. Dopo poco mi accorsi che qualcuno si avvicinava a me, mi sollevava, collocandomi in una posizione più comoda. Nessuno mi aveva mai trattato fino a quel momento con tanta sollecitudine affettuosa. Sentii appoggiarmi la testa su un guanciale o su un braccio, e provai un senso di benessere. In cinque minuti lo smarrimento era scomparso. Mi accorsi di essere coricata nel mio letto e che la luce rossastra era quella del fuoco. Era notte. Una candela ardeva sulla tavola. Bessie stava ritta a piede del letto con una catenella in mano, e un signore, seduto al mio capezzale, si chinava su di me. Provai un indicibile sollievo, un senso di protezione e di sicurezza, quando mi accorsi che un estraneo era in camera mia, un individuo che non apparteneva a Gateshead né alla famiglia della signora Reed. Volgendo lo sguardo da Bessie, benché la sua presenza mi fosse molto meno incresciosa che quella di Abbott, esaminai il volto dell'estraneo. Lo conoscevo, era il signor Lloyd, un farmacista chiamato qualche volta dalla signora Reed quando i servi erano malati, perché per sé e per i figli ricorreva al medico. — Chi sono? domandò egli. Pronunziai il suo nome stendendogli la mano. Egli la prese e disse sorridendo. — Tutto andrà bene fra poco. Poi mi distese con cura, raccomandando a Bessie che nessuno mi disturbasse durante la notte, e dopo aver fatto altre prescrizioni e assicurato che sarebbe tornato il giorno dopo, uscì, con mio grande spiacere. Mi sentivo così ben protetta e così curata, mentre egli stava seduto al mio capezzale. Così, quando la porta si chiuse dietro di lui, mi parve che tutto si oscurasse. Il mio cuore fu depresso di nuovo da una inesprimibile tristezza. — Avete bisogno di dormire, signorina? domandò Bessie con una certa dolcezza nella voce. Non osavo rispondere, per timore di sentir quella voce rifarsi aspra. — Proverò! dissi. — Volete bere o desiderate mangiare qualche cosa? — No, Bessie, vi ringrazio. Allora vado a letto, perché è mezzanotte passata, ma potete chiamarmi se avete bisogno di qualche cosa. Che gentilezza sorprendente! Essa mi dette animo a rivolgerle una domanda. — Bessie, che cosa mi è accaduto? Sono forse ammalata? — Credo che, a forza di piangere, siate svenuta nella camera rossa. Bessie andò nella stanza attigua, destinata alla servitù, e udì che diceva. — Sara, venite a dormire con me nella camera dei bambini. Non vorrei stare sola con quella povera piccina che potrebbe morire. L'accesso che ha avuto è così strano. Davvero che la signora è stata troppo dura con lei. Sara tornò insieme con Bessie, e tutte e due andarono a letto. Le sentii parlare a voce bassa per una mezz'ora prima di addormentarsi, e afferrai qualche frase della loro conversazione, di cui indovinai l'argomento. Una forma tutta strana l'è passata davanti ed è sparita. Un grosso cane nero la inseguiva. Tre violenti colpi alla porta della camera. Un lume nel cimitero, proprio sopra la tomba. Questo e altro, dicevano le due donne. Alla fine si addormentarono, e la candela continuò a bruciare. Passai la notte vegliando angosciosamente. I miei occhi, i miei orecchi, il mio spirito erano tesi per la paura, una di quelle paure di cui i bimbi soltanto sono capaci. Nessuna malattia lunga e seria tenne dietro a quell'incidente della camera rossa. Esso dette soltanto una scossa tale, ai miei nervi, che la risento tuttora. Sì, signora Reed, grazie a voi ho sofferto le dolorose angosce della sofferenza mentale. Ma devo perdonarvi, perché ignara di quello che facevate. Perché, credendo di sradicare le mie cattive tendenze, mi spezzavate il cuore. La mattina dopo, verso mezzogiorno, ero alzata e vestita, e, dopo essermi rinvoltata in uno scialle, mi ero seduta accanto al fuoco. Mi sentivo debole e affranta, ma la mia maggior sofferenza proveniva da un grande abbattimento di spirito, che mi strappava lacrime mute. Appena ne aveva rasciugata una, un'altra mi scendeva sulle guance, eppure avrei dovuto essere felice, perché nessuno dei Reed era in casa. Erano tutti usciti in carrozza con la loro mamma. Anche Ebbott cuciva in un'altra stanza, e Bessie, che andava e veniva per riordinare i cassetti, mi rivolgeva di tanto in tanto una parola straordinariamente dolce. Avrei dovuto credermi in paradiso, a sue fatta come ero a continui rimproveri e a sforzi incompresi. Ma i miei nervi erano così scossi, che la calma non poteva più calmarli, e il piacere non poteva più eccitarli piacevolmente. Bessie scese in cucina, e mi portò una piccola torta su un bel piatto cinese coperto di uccelli del paradiso, posati su convolvoli e bocci di rose. Quel piatto aveva sempre suscitato in me una viva ammirazione. Avevo spesso chiesto il permesso di prenderlo in mano per guardarlo con agio, ma fino allora ero stata riputata indegna di quel favore. E ora quella preziosa porcellana era posata sulle mie ginocchia, e mi invitava amichevolmente a mangiare il dolce che conteneva. Vano favore. Esso giungeva troppo tardi, come quasi tutti i favori lungamente desiderati e spesso negati. Non potei mangiare la torta, e le piume degli uccelli e le tinte dei fiori mi parvero sbiaditi. Misi da parte il piatto e la torta. Bessi mi domandò allora se volevo un libro. Quella parola «libro» mi produsse una puntura momentanea. Peraltro le chiesi di portarmi il viaggio di Galliver, che era nella biblioteca. Avevo letto e riletto quel libro sempre con nuovo piacere. Prendevo quei racconti come fatti veri, e vi trovavo più soddisfazione che nei racconti delle fate, perché, dopo aver cercato in vano le silfidi, fra le campanule e i muschi, le foglie e le edere che coprivano i vecchi muri, mi ero al fine rassegnata, pensando che essi avessero abbandonato l'Inghilterra, per rifugiarsi in qualche paese, ove i boschi fossero più incolti, più folti, dove gli uomini avessero maggior bisogno di loro, mentre che il Lilliput e Brobdignac erano collocati per me in qualche angolo della terra, e non dubitavo che un giorno, potendo fare un lungo viaggio, avrei veduto i piccoli alberi, i piccoli campi, le piccole case di quel popolo minuscolo, le vacche, le pecore, gli uccelli di uno dei regni, o le alte foreste, i cani enormi, i mostruosi gatti, gli uomini immensi dell'altro impero. Pure quando quel caro libro fu posto fra le mie mani, quando mi misi a sfogliarne le pagine, cercando nelle vignette l'attrattiva che vi avevo sempre trovata, tutto mi parve cupo e nudo. I giganti non erano più altro che spettri scarni, i pigmei altro che genietti perfidi, Gulliver, un viaggiatore disperato, errante in regioni pericolose e spaventose. Chiusi il libro e lo posai sulla tavola, accanto alla torta, che non avevo assaggiata. Bessie aveva terminato di mettere in ordine la camera, e dopo essermi lavate le mani, aprì un cassetto e ne cavò alcuni pezzi di seta scintillante per fare un cappello nuovo alla bambola di Georgiana. Ella incominciò a cantare. C'era una volta, tanto, tanto tempo fa, quando vivevamo come zingari. Avevo spesso udito quel canto e mi rendeva spesso allegra, perché Bessie aveva una voce dolce, almeno mi pareva tale. Ma in quel momento, nonostante che la sua voce fosse sempre la stessa, pure i suoi accenti mi parevano impregnati d'immensa tristezza. Qualche volta, occupata dal lavoro, ripeteva il ritornello a voce bassissima, e queste parole C'era una volta, tanto, tanto tempo fa, mi facevano l'impressione di un inno funebre. Ella intonò un'altra ballata, veramente malinconica, che diceva I miei piedi sono feriti, le mie membra sono stanche, la via è lunga, la montagna è selvaggia. Ben presto il triste crepuscolo, che la luna non rischiarerà più con i suoi raggi, spanderà le tenebre sul cammino del povero orfanello. Perché mi hanno mandato così solo e così lontano, là ove si stendono le paludi, là ove sono monticchiate le cupe rocce. Il cuore dell'uomo è duro, e i buoni angioli solamente vegliano i passi del povero orfanello. Però la brezza della sera soffia dolcemente, il cielo è senza nubi, e le stelle scintillanti spandono i loro puri raggi. Il Dio nella sua bontà concede protezione, sostegno e speranza al povero orfanello. Anche se cadessi passando sul ponte in rovina, anche se dovessi errare, attratto da fuochi fatui, nelle paludi, mio padre, che è in cielo, mormorerebbe nel mio orecchio promesse e benedizioni, e stringerebbe sul suo cuore l'orfanello. — Questo pensiero deve infondermi coraggio, benché non abbia né ricovero né genitori. Il cielo è la mia casa, e lassù non mi mancherà il riposo. Il Dio è l'amico del povero orfanello. — Venga, signorina Jane, non pianga! esclamò Bessy quando ebbe terminato. Tanto valeva dire al fuoco di non bruciare, ma come avrebbe fatto ella a indovinare le sofferenze alle quali ero in preda? Il signor Lloyd tornò a vedermi. — Come, già alzata? disse entrando. — Ebbene, Bessy, come sta la piccina? Bessy rispose che stavo bene. — Allora dovrebbe essere più allegra. Venite qui, signorina Jane. Vi chiamate Jane, non è vero? — Sì, signore Jane Eyre. — Ebbene, avete pianto, signorina Jane Eyre. Mi potrebbe dire per chi? Avete qualche dispiacere? — No, signore. — Piange, certo, perché non ha potuto andare in carrozza con la signora, disse Bessy. — Oh no, è troppo grande per piangere per una sciocchezza simile. Io la pensavo pure così, e sentendo offeso il mio amor proprio, risposi prontamente. — Non ho pianto mai per una inezia di quel genere. Detesto di uscire in carrozza. Ho pianto perché sono infelice. — Vergogna, signorina, disse Bessy. Il buon farmacista rimase impacciato. Ero rita davanti a lui, ed egli fissò su di me i suoi occhi scrutatori. Erano grigi, piccoli, e mancavano di splendore. Ora mi pare che li giudicherei penetranti. Era brutto, ma aveva l'aspetto buono. Dopo avermi considerata con agio, mi disse, che cosa vi fece ammalare ieri? — Cadde, disse Bessy prendendo di nuovo la parola. — Cadde? È forse una bimba piccina? Non sa camminare alla sua età? Deve avere otto o nove anni. — Mi hanno buttata in terra, risposi vivamente, sentendo di nuovo una ribellione di amor proprio. — Ma non per quello mi sono ammalata, aggiunsi mentre il signor Lloyd si consolava con una presa di tabacco. Mentre egli riponeva in tasca la tabacchiera, si sentì la campana che annunciava il pranzo della servitù. — Vi chiamano, Bessy, disse il farmacista avvolgendosi verso la bambinaia. — Potete scendere. Io leggerò qualche cosa alla signorina Jane finché non tornerete. Bessy avrebbe preferito di rimanere, ma fu costretta a scendere perché sapeva che l'esattezza era un dovere che occorreva compiere a Gateshead. — Se non è la caduta che vi ha fatto ammalare, che cosa è stato dunque? Continuò il signor Lloyd quando Bessy se ne fu andata. — Mi hanno rinchiusa sola nella camera rossa che è visitata la notte da uno spirito. Vidi il signor Lloyd sorridere e aggrottare le sopracciglia. — Uno spirito! Siete davvero una piccinuccia se avete paura degli spiriti? — Sì, ho paura dell'ombra del signor Reed, che morì in quella camera, e di là fu portato a sotterrare. Né Bessy né altri entrano la sera in quella stanza, se ne possono fare a meno. Ed è stata una crudeltà di rinchiudermici sola senza lume, tanta crudeltà che mi pare di non potermene scordare mai più. — Sciocchezze! — E fu quello che vi rese infelice? — Avete paura anche di giorno? — No, ma la notte tornerà fra poco. Del resto sono infelice per altre ragioni. — Quali? Ditene qualcuna. — Come avrei desiderato di rispondere sinceramente a quella domanda. Ma come era difficile il farlo. I bimbi sentono, ma non analizzano i loro sentimenti, e se col pensiero riescono a far parzialmente quell'analisi, non sanno tradurla in parole. Però, siccome temevo di perdere la prima e farne l'unica occasione di meticare il mio dolore sfogandolo con altri, feci, dopo un istante di turbamento, questa breve ma sincera risposta. — Prima di tutto non ho né padre né madre, né fratelli né sorelle. — Avete però una buona zia e dei buoni cugini. Feci una pausa e poi risposi francamente. — John Reed mi buttò in terra, e la zia mi rinchiuse nella sala rossa. Il signor Lloyd, per la seconda volta, ricorse alla sua tabacchiera. — La villa di Gateshead non vi par bella? Non siete riconoscente di vivere in una casa così bella? — Non è la mia casa, signore, e Abbott dice che ho meno diritto che una serva di abitarvi. — Non siete, spero, tanto stupida da desiderare di andarvene. Se potessi andare altrove sarei ben contenta di lasciarla, ma non posso farlo finché sono piccina. — Forse potreste. — Chissà. — Avete altri parenti oltre alla signora Reed? — Non credo, signore. — Nessuno dal lato paterno? — Non so, lo domandai una volta alla signora Reed, e la mi disse che potevo avere qualche parente povero che portasse il cognome di Eir, ma che non sapeva nulla di loro. — Se ne aveste, vorreste andare con essi? Riflettei. La povertà sgomenta gli uomini, e più ancora i bambini. Essi non hanno idea di una povertà industrie, operosa e irrispettabile. La parola evoca nella loro mente l'immagine di vesti stracciate, di scarso cibo, di focolare spento, di cattive maniere e di vizi degradanti. Per me povertà era sinonima di degradazione. — No, risposi, non vorrei appartenere a povera gente. — Nemmeno se fosse buona per voi? Scrollai la testa. Non potevo capire come avrebbe potuto essere buona quella gente se era povera, e poi imparare a parlare come i poveri, acquistare le loro maniere, non avere educazione, crescere come quelle misere donne che vedevo allattare i bimbi e lavare il bucato sulla porta delle casupole del villaggio. No, non ero abbastanza eroica per acquistare la libertà col suo corteo di miserie. — Ma i vostri parenti sono dunque tanto poveri? Sono forse operai? — Non saprei dirlo. Mia zia assicura che se ne ho debbono appartenere alla classe dei mendicanti, e io non vorrei chiedere l'elemosina. — Vorresti andare in pensione? Riflettei di nuovo. Sapevo appena che cos'era una pensione. Bessi me ne aveva parlato come di una casa dove le ragazze erano sedute su panche di legno, davanti a una tavola grande e dove si esigeva da loro dolcezza e puntualità. John Reed odiava la sua pensione e si burlava dei maestri, ma i gusti di John non potevano essere di norma ai miei. Se i particolari che mi aveva dati Bessi, particolari che aveva appresi dalle ragazze di una casa dove aveva vissuto prima, mi sgomentavano un poco, ero però attratta dalle cognizioni che quelle stesse ragazze avevano acquistate. Bessi mi vantava i bei paesaggi, i fiori graziosi dipinti da loro, poi sapevano cantare romanze, recitare e tradurre libri francesi. Ascoltando Bessi il mio spirito era stato colpito e sentivo destarsi in me l'emulazione. Del resto la pensione condurrebbe seco un cambiamento di vita, riempirebbe una lunga giornata, mi allontanerebbe dagli abitanti della villa, sarebbe infine il principio di una nuova esistenza. — Come sarei contenta di andare in pensione? risposi senza più esitare. — Ebbene, chissà che cosa può accadere, mi disse il signor Lloyd alzandosi. Per questa bimba ci vorrebbe un cambiamento d'aria e di luogo, aggiunse come se parlasse a se stesso. — I suoi nervi non sono in buono stato. In quel momento entrò Bessi e si sentì il rumore della carrozza della signora Reed nel cortile. — È la vostra padrona, Bessi? domandò il signor Lloyd. — Vorrei parlarle avanti di andarmene. Bessi lo invitò ad entrare nella stanza da pranzo e camminò davanti a lui per insegnargli la via. Nel colloquio fra il farmacista e la signora Reed suppongo che egli la spingesse a mettermi in pensione. Questo consiglio fu certo accettato subito, perché la sera stessa Ebbott e Bessi vennero nella camera dei bambini e, credendomi addormentata, si misero a parlare su quell'argomento. — La signora, diceva Ebbott, è molto contenta di sbarazzarsi di quella noiosa bambina che pare sorvegli sempre tutti e mediti qualche complotto. Suppongo che Ebbott mi credesse un'altra Guy Jokes bambina. Allora seppi per la prima volta, dai discorsi che Ebbott fece a Bessi, che mio padre era un povero pastore, che mia madre lo aveva sposato contro il volere dei suoi, che consideravano quel matrimonio inferiore alla sua condizione. Il nonno Reed, irritato da quella disubbidienza, aveva diseredato la mamma. Dopo un anno di matrimonio, mio padre fu attaccato dal tifo. Aveva preso il contagio assistendo ai poveri di una grande città manifatturiera, ove quell'epidemia faceva strage. Mia madre si ammalò assistendolo, e tutti e due morirono alla distanza di un mese. Bessi, dopo aver ascoltato questo, sospirò, dicendo «Povera signorina Jane, merita davvero compassione!» «Sì!» rispose Ebbott. «Se fosse una bella creatura, si potrebbe aver pietà del suo abbandono, ma chi può guardare un rospetto simile?» «È vero!» rispose Bessi esitando. «È certo che una bellezza come la signorina Giorgiana vi commoverebbe più, se fosse nella stessa posizione!» «Sì!» esclamò l'ardente Ebbott. «Tengo per la signorina Giorgiana! Cara piccina, con i suoi lunghi riccioli, con quegli occhi azzurri e quella dolce carnagione! Pare dipinta! Bessi avrei voglia di un po' di coniglio per cena! Anch'io, con le cipolle arrostite! Venite, andiamo giù!» E uscirono. Aere, andiamo ancora a tutti! Grazie a tutti